musica 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 mi prende quello che c'è la sopra, non so cosa c'è ma lo voglio musica 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 marcio che devo fare ok un momento ma sotto cos'è che c'era? musica 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 Allora la partita Qua 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 Il che funziona E vai Welcome to Bubble public è una faccia ufff ora si è giocato abbiamo che saliamo grazie ora 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 è libero fammi salvare non posso fare niente tanto per ora oh abbiamo riattivato l'albero delle acque ragazzi è stata tosta è stata tosta è stata tosta infatti è così tosta che mi sono rilassato e stavo per morire e si è sono morto proprio perchè non ci non farò ora oracingfi non per l'abbandonare No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.